buon di fiore buon di tose o buona sera fiore buona sera tose dipende da che ora guardare sto video e buona domenica come andiamo spero ben ciao a tutti io sono stene da treviso con furore e con tutto il mio entusiasmo ben ritrovati su stene channel bentornati a casa stene come di consueto nei weekend non mi trovo nella mia postazione usuale quindi vi domando scusa in caso di problemi video o in caso di problemi di audio poco insomma fluido però in emergenza si fa tutto ma penso che la cosa più importante sia quella comunque di confezionare questi brevi riflessi filmati anche per interagire con voi e portare avanti questo progetto legato alla serie c mi iscrivete in tantissimi io vi ringrazio mi spiace non seguire il girone c però io d'affetto quest'anno per simpatia resto sul girone a perché sono anni che seguo le vicende di padova e triestina che fanno parte del triveneto poi ovviamente non disdegno qualche puntata anche nel girone b però seguire anche quello meridionale per me sarebbe veramente un qualcosa di troppo impegnativo e anche verrebbe fuori un minestrone perché non ho tutta 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 questa competenza ecco e quindi mi scuso veramente con tutti gli amici che mi hanno scritto e che mi hanno detto non parli mai del girone c purtroppo ragazzi è ben difficile se ne si riprenderà in mano questo argomento nei playoff ma restiamo ad oggi e la mia attenzione ovviamente si è concentrata sul girone a anche perché in calendario c'era una sfida di cartello quella tra triestina al vino leff e poteva essere una partita della svolta sia per l'una che per l'altra parte e lo è stato a favore dei bergamaschi che dopo la battuta d'arresto in casa settimanale contro infra settimanale contro la ferralpi salò trovano questi tre punti importantissimi a trieste e a dirla tutta non è stata proprio un'affermazione meritatissima perché dal mio punto di vista sottolineo dal mio punto di vista la triestina non mi è dispiaciuta dalla cintola in su i danni purtroppo per la triestina li fa il reparto difensivo e questa purtroppo è diventata una consuetudine nel corso di questo primo frammento di campionato perché se anche andiamo ad analizzare il match odierno primo gol della binorefe di ravasio praticamente vede il calciatore della binorefe solo in mezzo all'area che colpisce la sfera tra l'altro malamente e la depone tranquillamente in fondo a sacco aperta parentesi non è assolutamente fuori gioco perché il calciatore che salta la sfera colpita dall'arvasio è tenuto in gioco da un difensore della triestina che è sul palo e il tutto si vede benissimo quando io ho visto la sfida su in sport c'è la ripresa a campo aperto quindi 1 a 0 per gli ospiti regolare e dopo questo comunque episodio che ha chiaramente un po' innervosito il team di Bucchi c'è stata una reazione c'è stata una reazione abbastanza immediata che poi ha portato al pari di Natalucci nato anch'esso da un cappellone difensivo del bergamasco saltarelli che non si è inteso col proprio portiere quindi poi ha consegnato la palla a De Luca che è riuscito a smistarla serie di passaggi Natalucci la mette in fondo a sacco 1 a 1 e da qui si riparte si riparte nella ripresa dove la sensazione che provavo era quella che la triestina prima o poi sarebbe riuscita a passare in vantaggio ma ecco il solito blackout da parte degli uomini di mister Bucchi perché al di là del punto interrogativo legato al contrasto tra Gelli e Crini dove lì bisogna valutare bene il tutto però nello sviluppo dell'azione successivamente non può un calciatore arrivare dentro l'area di rigore nel momento in cui è arrivato dentro l'area di rigore viene tra l'altro steso e non riesco poi anche a comprendere qui aiutatemi voi con i commenti perché Cappella non è stato espulso ma è stato solamente ammonito vabbè rigore di Manconi 2 a 1 e sembra che la frittata sia fatta qui la triestina poi ha reagito c'è stato un episodio dubbio in area di rigore su De Luca che a mio avviso era penalty però anche qua live motive ultimamente nel girone B fischiano se c'è un dubbio fischiano o contro il Modena o non gli fischiano a favore qualcosa nel girone A questa diciamo consuetudine ce l'ha la triestina e su questo restiamo estremamente obiettivi però al di là di quello bene l'Alabarda perché ha schiacciato l'Albino Leffe nella sua area di rigore impegnando più e più volte il portiere Pagno finché poi arriva anche il primo gol stagionale di Providenza Litteri l'ho chiamato così simpaticamente l'attaccante Giuliano perché tra l'altro ogni volta che entra dalla panchina segna è una sua peculiarità benvenga per il popolo alabardato e qui ora che hai rimesso in piedi una partita così difficile ennesima ennesima cappella difensiva ennesima svista da parte poi degli uomini più esperti del reparto che dovrebbe appunto garantire l'incolumità alla porta della triestina con il buon Poletti che si fa 30 metri palla al piede arriva al limite dell'area prende la mira e trafigge Martinez punto e basta la partita si riassume qui quindi è veramente ora che ci siano veramente delle sedute mirate nel lavoro delle linee difensiva perché per il resto la triestina tutto sommato non è malaccio sta di fatto che poi comunque quello che viene fatto davanti viene distrutto da chi lavora dietro non so se avete capito insomma questo tipo di concetto e quindi credo che il tutto si possa riassumere in queste poche parole poche parole che comunque portano a constatare che la triestina si trova nuovamente nei bassi fondi della classifica che la binoleffe comincia ricomincia a far sentire fiato sul collo al padova portandosi a 16 punti e aggancia momentaneamente su tirol con gli altotesini che oggi vincono a vercelli e tra l'altro poi nel caso il loro ricorso venisse accolto eventualmente vincessero in casa dell'egnago il recupero riuscirebbero addirittura ad agganciare la squadra della città del santo che oggi clamorosamente ha pareggiato 1-1 contro il seregno ma del resto non era neanche umanamente possibile che il padova vincesse tutte le partite però insomma questa squadra che già tra l'altro aveva fermato nella prima giornata la triestina in casa per 0-0 è riuscita a cogliere un punto importantissimo all'euganeo e sono curioso adesso di andare a vedere cosa effettivamente è successo nel corso di questi 90 minuti. Bene fiò e benetose direi che mi posso congedare tranquillamente qui in attesa delle vostre impressioni che mi potete esprimere tramite i commenti vi invito a seguirmi anche su instagram semplicemente basta che cercate sul motore di ricerca stene channel mi trovate e ringraziandovi della vostra consueta attenzione cosa dirve che vi voglio bene steme ben e si vediamo al prossimo video alla prossima puntata di casa stene ciao a tutti